Buongiorno, Ben trovati, primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa, oggi è lunedì 8 ottobre 2018, lunedì come sempre daremo poi nella seconda parte grande spazio allo sport, andremo a vedere anche i servizi delle partite giocate ieri, parleremo di calcio ma anche di basket, pallavolo e tanto altro. Andiamo per ordine, iniziamo come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi, il centro, l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda il panino a scuola, i genitori in rivolta, le famiglie contro la ASL, regole rigide, ai bimbi serve una dieta più varia. Vedete poi a centro pagina la fotonotizia che riguarda ovviamente il Pescara, il Pescara che sogna con Pillon che si coccola la stella Macin, Pescara primo in classifica dopo la vittoria dell'ultimo turno con il Benevento. Vediamo anche in primo piano di spalla, sicurezza e autostrade, ecco in retroscena, tagli al masterplan, i sindaci si mobilitano, Pescara procura tre super pool contro la criminalità e poi il poster remoto, pecorino di Farindola, simbolo di rinascita. Torniamo un attimo allo sport per vedere anche qualche altro titolo, il basket di serie B, un basket amatore di Pescara, buona la prima con Serafini sugli scudi e poi vedete di fianco Formula 1, Hamilton vince ed è ad un passo dal titolo mondiale e poi la serie A di calcio, Napoli e Milan sorridono, Icardi regala i tre punti all'Inter nella gara di Ferrara con la spalla. Andiamo a vedere la prima pagina del centro edizione di Chieti Lanciano Vasto, vedete il titolo che riguarda l'università d'annunzio, senato accademico votano in 1150, Chieti 800 professori e 350 dipendenti della d'annunzio, eleggono 22 nuovi rappresentanti. Il calcio in salsa neroverde sulla prima pagina di Chieti del centro perché il tonfo dei neroverdi a Pratola è costato il posto al tecnico Umberto Marino che è stato esonerato. Vediamo anche gli altri titoli, Chieti vandali distruggono le pensiline dei bus soprattutto nella zona della colonnetta. Lanciano corso, cantiere fermo, cambia la viabilità. Tornando allo sport, la serie D va stese, Giampaolo non basta, i biancorossi sconfitti a Rimini dal Sant'Arcangelo, il tecnico Ottavio Palladini torna in bilico, probabilmente sarà decisiva la gara di domenica prossima in casa con il Forlì. Prima pagina del centro di Teramo, la cronaca in primo piano in coma dopo lo scontro frontale, Montorio schianto tra due auto nella notte, un sessantenne di Miano in rianimazione. Poi il Teramo, il calcio, Teramo che non esce dal tunnel, battuto a Salò, i biancorossi, ancora a secco di vittorie. Vediamo poi gli altri titoli, concorsi in arrivo, Asle pronta a bandire 20 posti da primario e poi Morrodoro, cacciatore uccide Faggiano, adottato. Ancora sport, il basket di serie A2, ieri ha preso il via anche il secondo torneo nazionale, debutto amaro per il Roseto che è stato battuto a Mantova. Vediamo anche la prima pagina di L'Aquila, Vezzano sul Mona del centro, Macellaio suicida, il giallo si riapre, L'Aquila, le parti lese si oppongono all'archiviazione dell'inchiesta. Ci fu istigazione. Vediamo poi in basso il calcio di serie D con la crisi nera dell'Avezzano, battuto dalla capolista in casa al De Marsi, dalla capolista notaresco per 3-1. In bilico il tecnico Giampaolo e anche tre atletici potrebbero essere dei tagli tra la giornata di oggi e quella di domani. Inferocito il presidente Paris. Ancora Avezzano, un nuovo municipio, lavori a primavera, sul Mona, segretaria verso l'addio, comune. A rischio caos. E poi il calcio di prima categoria con l'Aquila che ottiene la terza vittoria di fila ma perde torre per infortunio. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Autostrade, polizia in allarme, gli agenti scrivono al Ministero dell'Interno. Vogliamo conoscere il rischio reale. E poi di spalla la politica in vista delle elezioni amministrative nella nostra regione che si terranno a febbraio. La terna per quanto riguarda il centro-destra di Fratelli d'Italia vede in Lizza l'ex assessore regionale Gian Donato Morro, il consigliere comunale di Pescara Guerino Testa e Tavani. Vediamo poi più a centro pagina il PM dipendente comunale favoriva il marito, l'Aquila a giudizio, la referente dell'ufficio. Per la donna è scattata l'accusa di abuso. E poi Pescara l'umiltà che va al comando, tifoseria in festa. Il miracolo a sorpresa di Pillon. Vediamo in alto altri richiami di sport. Palla a volo, sta nascendo una buona Sieco, Ortona dopo i test precampionato. Serie C, Teramo travolto a Saloma, Zichella per ora resta. E poi Serie D, notaresco da sballo. Il Francavilla stende il Real Giulianova in uno dei due derby della giornata di ieri. Altri titoli di prima pagina. Teramo immobili in vendita per ricoprire le buche. E poi andiamo in basso per vedere un ultimo titolo che riguarda ancora Teramo. Ex Tercas neguai per i tango bond. Lasciamo i quotidiani della nostra regione relativamente alle prime pagine. Passiamo all'edicola nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera. Migranti, frenata di Berlino. Tensione sull'applicazione di Dublino. Roma pensa ad un'intesa dopo le europee. Intanto Salvini, no ai rientri. Aeroporti chiusi. La Germania, nessun charter. A breve. E poi, vedete più in basso, sia la vostra linea dura, ma basta liti tra paesi. Manfred Weber, capogruppo del PPE in Europa, plaude alla linea dura dell'Italia. E poi vedete il titolo di spalla, il libro sull'Ave Maria, il Papa, l'Elite, sono il peccato. Anche dentro la chiesa. Vediamo poi a centropagina un altro titolo. L'ex militare dell'ultradestra sfiora la vittoria in Brasile. Presidenziali, Bolsonaro andrà al ballottaggio con il progressista Haddad. E poi un ultimo titolo che riguarda il ponte di Genova. Il rebus delle gare tiene tutto fermo. Vediamo la Repubblica. Salvini, chiuderò gli aeroporti. La Germania non ferma i voli. Questo è il titolo di apertura. Scontro con Berlino sui rinvii dei migranti arrivati dall'Italia in sei mesi, già tornati in 1.600. Poi andiamo più in basso. Vediamo il titolo che riguarda Sisi. 100.000 in marcia per la pace e il nostro valore non negoziabile. Vediamo anche il quotidiano Il Fatto. Ecco chi ha fatto più debiti, scrive Il Fatto Quotidiano. Top 10 dei governi che dobbiamo ringraziare per i conti. Allo sfascio. E poi la prima pagina nazionale del messaggero. Scontro sui rimpatri. Berlino frena. E poi Roma, strade killer, un altro morto nel centro giungla. E poi una notizia che riguarda le elezioni in Bosnia. I nazionalisti anti-europei verso la vittoria. Vediamo anche il quotidiano libero. Salvini chiude pure gli aeroporti. Provo qui se li tenga la Merkel. La Germania era pronta a far decollare un aereo per rimandarci 40 immigrati. Matteo Duro. Qui non atterra nessuno. Giusto. Frontene chiuse. Scrive Libero. Finché l'Europa non si fa carico della ridistribuzione di stranieri. E Berlino subito si adegua. Andiamo a vedere poi in basso un titolo che riguarda i furti negli ospedali. Furti e barboni in corsia. Ospedali incontrollati. Un problema che riguarda un po' diversi ospedali del nostro paese. Il mattino di Napoli. Rimpatri sui charter. E scontro. La Germania era pronta a far rientrare in Italia i migranti. Salvini risponde. Io chiudo gli aeroporti. E poi vedete a centro pagina. Il quotidiano napoletano parla del Napoli. della vittoria di ieri con il Sassuolo e del magnifico Lorenzo Insigne che con Ancelotti segna gol a Raffica. Una notizia che riguarda la cronaca. Una tragedia accaduta proprio alle porte, alla periferia di Napoli. Cercava il riscatto con il calcio pugnalato al cuore Miano. La storia del ragazzo ucciso da un ambulante. Il padre venne ammazzato in un agguato di camorra. Vediamo anche la prossima, prima pagina che in questo caso è della verità. Salvini chiude i nostri aeroporti ai barconi volanti della Merca. Il leghista pronto a stoppare i charter con cui i tedeschi minacciano di rispedirci migranti. Poi a centro pagina l'intervista al ministro della Sanità Giulia Grillo. Fermo Italia e la Sanità e non lascerò il ministero. Vediamo anche il sole 24 ore. Si parla sul quotidiano economico del reddito di cittadinanza. Le armi dei controlli sui finti poveri. E poi flat tax. Qui guadagna e chi perde. Appunto con la flat tax. Il tempo, una scuola bestiale. Il tempo di Roma, l'ultima della raggi. Agroasili per far stare i bambini nel verde e coltivare l'orto. Poi vedete a centro pagina. La Lazio si è destra. Battuta la Fiorentina per 1 a 0. E poi un'altra tragedia della strada nella capitale. Investito e ucciso dal SUV a tutto gas. sulla preferenziale tragedia a bocca della verità. Vediamo la stampa di Torino. Piano di Salvini. Un candidato dei populisti per guidare l'Unione Europea. Contatti con forze sovraniste di Austria e Svezia. Oggi ne discuterà a Roma con Marie Le Pen. E poi il riscaldamento globale. Il mezzo grado che può ancora salvare il mondo. Vediamo anche un altro quotidiano in prima pagina nell'edicola nazionale. Si tratta del giornale. Finito anche il condone. Ennesima fregatura. Nessuna sanatoria pagherà anche chi ha ragione. Lavoro vietato. Arrotondare la pensione. Leggiamo dal giornale. E poi anche in basso. Salvini si fermi. Prima che sia tardi. Lo dice il Presidente dell'Europarlamento. Tajani non si schieri. Con i grillini. Dice Tajani. Vediamo poi il secolo d'Italia. Aeroporti chiusi anche sul giornale della destra. Troviamo questo titolo. Sia a Berlino o a Bruxelles pensano di scaricare in Italia decine di immigrati. Dice Salvini con voli charter. Non autorizzati. Sappiamo che non ci sarà nessun aeroporto disponibile. Vediamo il secolo XIX. L'Europa sosterrà Genova. Ci sono risorse già disponibili. Oggi il vertice in prefettura con il Ministro Toninelli Bucci, il Sindaco di Genova e Toti, che è il Presidente della Regione Liguria. Parla la Commissaria dell'Unione Europea e i Trasporti Bulk, favorevoli anche alla Gronda e al Terzo Valico. Il decreto cambia. 20 milioni per gli sfollati. Primo corteo in Valpolcevera. Dateci risposte. Questo era l'ultimo quotidiano che abbiamo visto per quanto riguarda l'edicola nazionale, il secolo XIX, il quotidiano di Genova. Torniamo invece sul centro. Restiamo in argomento, perché si parla anche a pagina 2 del centro della sicurezza delle nostre strade e autostrade. Ecco la legge cambiata che taglia 200 milioni. A 24 e a 25 i lavori con i soldi tolti al masterplan grazie ad una frase aggiunta. Prezzo Pane e D'Alfonso Lolli accusano il Governo e mobilitano i sindaci. Se ne parlerà tra l'altro questa mattina in una conferenza stampa che terrà a Pescara il Presidente Vicario della Regione Giovanni Lolli. In basso si parla invece di elezioni. Regioni al voto il 10 febbraio, ne parlavamo prima, 20 sindaci pronti a candidarsi per l'emiciclo. Tornando alla vicenda sicurezza delle strade, le reazioni vedono uno scontro politico, perché l'Abruzzo si spacca in due, da Alessandro a Sclocco a Gerosolimo si alzano le barricate contro il Governo. Noi invece i parlamentari del Movimento 5 Stelle non toccheremo i fondi già impegnati. E vedete poi in basso l'ambientalista De Sanctis fa il tifo per i tagli del Governo. Siamo alla festa della Col di Retti a Roma e Farindola diventa il simbolo della rinascita sul palco. A Roma con Elisa Isoardi l'imprenditore Martinelli, che ha salvato il marchio del pecorino più famoso d'Italia. Le eccellenze abruzzesi ai navigli, i piatti della cucina regionale, conquistano Milano alla Fiera Mediterranea. Proseguiamo e siamo alle pagine dalle province. Parliamo di cibo per i bimbi, di bimbi che diventa un caso a Pescara. Panino da casa, regole rigide, centinaia di genitori in rivolta. Vedete il titolo. Le famiglie faticano a rispettare le disposizioni dell'Asle, chiedono flessibilità alle istituzioni. I nostri figli non possono mangiare solo panini e pizzette, non è una alimentazione corretta. Pasto da casa, le regole del Ministero, sì agli alimenti nei termos, no ai contenitori in vetro. Siamo a Pescara, la cronaca in autocontromano sulla circonvallazione. Pescarese di 75 anni in bocca, al contrario la rampa di uscita di Pescaracolli, la polizia stradale lo blocca ed evita lo schianto. Patente ritirata e maxi multa. Web marketing e imprese, oggi incontro all'Università Studio della Camera di Commercio. E sempre oggi a Pescara ci sarà la presentazione della ventitresima edizione del premio Borsellino. La nuova organizzazione della Procura di Pescara, Procura 3 Super Pool per combattere il crimine. Gli 11 magistrati in organico sono stati suddivisi dal Procuratore Serpi in squadre di lavoro per indagare su pubblica amministrazione fasce deboli e reati economici. Vedete poi nello specchietto la distribuzione dei tre team della Procura di Pescara. In Comune c'è stata la festa per gli ultimi nati, cerimonia con i bimbi venuti alla luce nel periodo estivo a Pescara. Siamo a Montesilvano, la domenica a Montesilvano, in stazione Cela Piccola, nuovo spazio alla cultura. Il Museo del Treno inaugura la tettoia che prima della guerra ospitava i carri merci. Treno storico, banda, spettacoli musicali e teatrali, più di mille persone all'evento che si è tenuto proprio presso la stazione ferroviaria di Montesilvano. E sempre a Montesilvano, forno alla festa degli animali, al Parco della Libertà, adozioni, microcippatura, benedizione, sfilata dei cani. E intanto per quanto riguarda invece la didattica innovativa, formazione digitale e lingue al comprensivo delfico, sempre a Montesilvano. Ci spostiamo in Val Pescara, precisamente a Scafa, sicurezza, il prefetto invitato a Scafa. Stasera si terrà il Consiglio Comunale straordinario, convocato dopo le denunce dei cittadini. Il comandante dei Carabinieri incontra i sindaci, l'attività di controllo, dice il comandante provinciale dell'Arma. E continua da Scafa, ci spostiamo a Francavilla al mare, il sindaco Luciani pronto a tornare primo cittadino. Leggi rispettate, dice Luciani. E poi torniamo in Val Pescara, parliamo della bonifica di bussi. Pettinari solleci di costa. Il sindaco replica al consigliere regionale sul sito inquinato e sulle risorse idriche. E intanto, in vista delle elezioni anche per quanto riguarda la provincia di Pescara, il sindaco di Picciano Catani, candidato presidente della provincia, da Abruzzo Civico. Siamo a Chieti, elezioni all'Università d'Annunzio, senato accademico al voto, 800 professori e 350 dipendenti. Domani il rinnovo dell'organo universitario, si scelgono 22 nuovi rappresentanti, docenti e ricercatori votano senza liste per il settore tecnico. Ci sono sei candidati e il comune cambia i revisori. Siamo sempre a Chieti, Palombizio a capo del collegio. In basso, in 150 a piedi fino a Volto Santo, il tradizionale pellegrinaggio partito da Chieti Scalo sulle orme dei nostri nonni. Andiamo a vedere anche l'altra pagina che riguarda Chieti e provincia. I vandali vanno all'assalto, spaccate le fermate dei bus a Chieti, ancora danneggiate le fermate nella zona della colonnetta, distrutte quattro pensiline. I testimoni in azione una banda di quattro teppisti. Colantonio, assessore comunale di Chieti, dice che sono malfattori. Chieti lutto per l'addio allo storico muratore Guido Capone. Spostiamoci ad Ortona, Erbaccia, al Tribunale, città nel degrado. Questa è la denuncia che arriva proprio da Ortone a Lanciano. Sul corso, cantiere fermo, cambia la viabilità, l'assessore caporale. Chiediamo pazienza tra un paio di mesi, stop ai disagi, al traffico in basso. Ci spostiamo prima a Vasto e poi a Paglieta. Vasto computer vecchio al centro per l'impiego, disagi e blitz del Movimento 5 Stelle. A Paglieta morde le mani al negoziante, derubato, donna denunciata per rapina impropria. Dai carabinieri, siamo all'Aquila. Macellaio suicida, stop all'archiviazione. Opposizione delle partilese contro la richiesta del PM che esclude connessioni tra il gesto e presunti casi di mobbing. Tragedia in caserma all'Aquila. Giallo da chiarire, sentiti i commilitoni, sarà l'autopsia a svelare la causa del decesso del giovane finanziere campano. Torno in parte dall'addio al ciclista investito. Tragedia a Modena, folla ai funerali del 37enne, palloncini bianchi salutano l'uscita del feretro di Paolo Grego, scomparso a Modena. Andiamo a vedere anche un'altra pagina del centro. Ci spostiamo in Marsica, ad Avezzano. Il sindaco De Angelis ha appalto ok per il nuovo municipio. Primo cittadino assicura che a primavera, nel 2019, partiranno i lavori di completamento, oggi faccia a faccia, tra i vertici comunali. Il parroco Salone e i residenti. Sempre ad Avezzano il caso del mercato. Oggi l'assegnazione degli staldi, ma gli ambulanti diserteranno. Andiamo in basso, a fondo pagina, a Sulmona, raccolta delle olive della Valle Rassicura. Il produttore, allarmi esagerati sui danni causati da una larva. L'olio sarà di buona qualità. Siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro, l'ASL che cambia. In arrivo 20 concorsi da primario, alcuni sono per reparti storici, altri per strutture diventate unità complesse, con l'atto aziendale come 118 e hospice. Vediamo poi, più a centro pagina, a Morrodoro, cacciatore uccide Faggiano, adottato da una famiglia. È accaduto nel frutteto, vicino l'abitazione di questa famiglia che aveva adottato questo Faggiano. Siamo a Montorio, un accidente frontale l'altra notte, scontro sulla statale 150, tra una punto e una BMW. L'uomo di Miano, la guida dell'utilitaria, è rimasto ferito gravemente, è in rianimazione, ricoverato in ospedale. Giulia Nova sbloccata la candidatura di Trifoni per i 5 Stelle. E poi, verso lo scontro Pepe di Annunti, selezioni regionali in Val Vibrata, l'assessore fra poco scioglierà la riserva. Vediamo poi in basso, elezioni in provincia a Teramo. Teramo deve essere centrale nella scelta, candidato presidente ad Alberto e la sua maggioranza toccherà l'ultima parola. E poi a Torricella, una tragedia accaduta ieri, anziano cacciatore muore di infarto durante una battuta di caccia. Siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere prima le pagine interne del messaggero. Poi nella seconda parte parleremo in maniera dettagliata ovviamente di sport, vedremo anche diversi servizi. Ripartiamo in questo caso da Pescara, area di risulta giù le mani dei soldi. Se il consigliere Casciano teme che il piano di riqualificazione possa perdere i 12 milioni del masterplan, faremo le barricate. Intanto la maggioranza boccia la proposta di procedere per lotti, impensabile ricominciare il lungo iter di pareri e permessi. E poi Francavilla, due mamme e una bimba, arci gay indignata per l'esposto. E poi Colli, in bocca contro mano la rampa della tangenziale bloccato dalla polizia. E poi nuova tettoia a Montesilvano, festa con le ferrovie, bombardata nel 43, ricostruita oggi. Ringraziamenti del sindaco Maragno al lavoro corale e ai sostenitori. Siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero. Funerali, impiegata comunale favorisce la ditta del marito. A processo la referente ufficio cimiteri. E' stata invece prosciolta la dirigente, la donna accusata di abuso d'ufficio. Le intercettazioni, conta più del sindaco. E poi vicini, sotto servizi, il comune scarica le responsabilità, lo dice Elisabetta Vicini. E poi paura in Argentina, tentativo di furto ai danni del presidente del Cipiglia Miconi. In basso, progetto case, fioccano le segnalazioni. Freddo e degrado, queste le denunce. Arrivate con queste segnalazioni. Parliamo di autostrade. L'allarme della polstrada. Ciucci dell'Ugele chiede l'Umi al Ministero sui viadotti. Come comportarci? Tutti ci chiedono informazioni. Coinvolti gli agenti che lavorano nelle varie postazioni abruzzesi, ma anche nel tratto laziale dell'A25 di Roma Est. Siamo a Castel di Sangro. Teatro, musica e creatività. Ecco il premio. E poi Sulmona per le menze scolastiche. Una corsa contro il tempo. Da Sulmona ci spostiamo ad Avezzano. Verdecchia del PD. Dice, ora si cambi. Il delegato comunale del CAM. Andiamo a vedere un'altra pagina, sempre dell'inserto abruzzo del messaggero. In questo caso siamo a Chieti. Piano del commercio innovativo per il nuovo anno. Norme più rigorose per ambulanti e media distribuzione. Obiettivo attirare una maggiore clientela. In centro storico. E poi il voto del 31 ottobre per la provincia di Chieti. Il sindaco di primi al centro-destra. Sostenetemi alla provincia. E poi la denuncia che arriva sempre da Chieti. Ne abbiamo parlato anche prima. Distrutte a colpi di mazza le pensiline della panoramica nella zona della colonnetta di Chieti. E caccia ai teppisti l'amarezza del direttore della panoramica. Chiacchiaretta. Spostiamoci in basso. A vasto. Centro per l'impiego carente. Il bilix di Grippa e Smargiassi del Movimento 5 Stelle. E poi Lanciano. Il furto dai cinesi finisce a morsi. Prese e denunciate. Due donne. Siamo alla pagina di Teramo. E di Teramo provincia del messaggero. Il comune vende immobili per poter asfaltare le strade. Troppi incidenti provocati dai buchi. Si cercano i soldi per effettuare lavori. All'asta vari lotti di terreno pubblico. Ma le previsioni di incasso sono scarse. Siamo a Giulianova. Pochi vigili in strada. Il jacuzzi della Cameli. L'ex vice sindaco. Ora primo cittadino a tutti gli effetti. Dopo le dimissioni di Mastromauro. E intanto parliamo anche di cultura. L'evento. Il premio di Venanzo. Sabato. Ci sarà la cerimonia per quanto riguarda questo premio. Andiamo in basso a fondo pagina. Tango Bond. Ex Tercas. Deve risarcire i clienti. A Giulianova. Il cinema. E a rischio chiusura. Raccolta di firme. Per salvarlo. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello sport. Ma allora possiamo fermarci per qualche istante. Andiamo a vedere anche le previsioni del tempo per le prossime ore. Poi torneremo in studio. E nella seconda parte apriremo l'ampia pagina dello sport. Seconda parte di mattino 6. Siamo di nuovo in studio per parlare con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Proprio di sport in tutta questa seconda parte. Partiamo dalla gazzetta dello sport. Tango Milano. Inter sul podio con Super Riccardi. Fa due gol. Batte la spalla e prende Vieri a quota 103. Ina con i nerazzurri. Spalletti terzo da solo. Ma brilla anche il Milan. Iguain ringhia due volte. Un avvio record per Ile e Pipita. Gattuso risale. Chievo. Probabile. L'esonero di Mister Danna. In arrivo. Iachini. Vediamo proprio in questo specchietto della gazzetta dello sport, come ogni lunedì, anche i risultati. Delle partite giocate nel weekend della classifica di Serie A. Venerdì aveva aperto il quadro dell'ottava giornata la sfida tra Torino e Frosinone, terminata per 3-2 in favore dei Granata. Poi sabato Cagliari-Bologna 2-0. Odinese-Juventus 0-2. Empoli-Roma 0-2. Ieri le altre gare. Genova-Parma 1-3. Atalanta-Sandoria 0-1. Lazio-Fiorentina 1-0. Milan-Chievo 3-1. Napoli-Sassuolo 2-0. Spall-Inter 1-2. Vedete in classifica Juventus 24 punti, Napoli 18, Inter 16, Lazio 15, Sandoria-Roma 14, Fiorentina-Sassuolo-Parma 13, Milan-Genoa-Torino 12, Cagliari-Spall 9, Udinese 8, Bologna 7, Atalanta 6, Empoli 5, Frosinone 1, Chievo-1 partito. Però con una penalizzazione l'undici Clivenze di 3 punti. Ci ricordiamo che Milan e Genova devono recuperare una partita. Vediamo anche il Corriere dello Sport. Insigni. Ancelotti ne cambia 8. Parliamo del Napoli rispetto a mercoledì. Apre Onas. Poi un po' di sofferenza. Entra Lorenzo. Si tratta di Lorenzo Insigne. E illumina il San Paolo con il tiro a giro. Il Napoli resta a meno 6. Dalla Juventus. Milano è già calda perché Inter e Milan vincono. E dopo la sosta ci sarà il derby. In basso una notizia che riguarda la Serie B. Perché ieri si è giocato il posticipo del Barbera. Palermo e Stellone. Festa con Nestorowski. Un gol dell'attaccante rossanero a 5 minuti della fine. Ha regalato la vittoria ai siciliani contro i pitagorici. Siamo a tutto sport. Ronaldo attacca. Il premier portoghese Cristiano Innocente. Basta fango. E intanto Ronaldo è riuscito ad andare in gol anche nella gara di sabato. Gara giocata dalla Juventus a Udine. Lasciamo i quotidiani sportivi nazionali. Siamo al centro. Macin, Stella del Pescara capolista. L'ascesa della mezzala premiata dalla chiamata nella nazionale della Guinea Equatoriale. Poi gli altri titoli che poi ritroveremo di notizie e argomenti che ritroveremo all'interno del giornale. Il Teramo non va a Salò. Un K.O. senza attenuanti. E poi vedete in basso. Eccellenza. Il San Buceto sa solo vincere. Chieti non va. Paga Marino. Beltris dell'Angolana. Promozione. Castelnuovo e Lanciano hanno una marcia in più. Bene San Salvo e Bagigalupo. Serie D. Notaresco vola. Veazzano cambia. Lavastese in crisi. Andiamo a vedere le pagine che riguardano la Serie A sul centro. Sesta vittoria. Icardi l'implacabile Inter al terzo posto. 2-1 in casa della Spalle. Poi il Napoli resta sulla scia della Juventus. Insigne più sereno con Ancelotti. 2-0 sul Sassuolo. Successo a Sofferto per la Lazio. Sulla Fiorentina per 1-0 il gol di Ciro Immobile. Missione compiuta. Furia Iguain. Sul Chievo il Milan non si ferma. 3-1 dei rossoneri. Ai danni dei Veneti. Genoa non basta. Piatec da Versa lancia il Parma. Il gol del Polacco. Non basta questa volta ai rosso-blu battuti dalla formazione del pescarese da Versa. E poi Giampaolo mette in crisi l'Atalanta dei Miracoli. Perché i bergamaschi perdono in casa con la Sampdoria. Formazione irriconoscibile rispetto allo scorso anno. E poi Ronaldo diventa un affare di Stato. Le accuse di stupro nel 2009. Il Premier portoghese scende in campo per difendere il CR7. E poi Pellegrini, Stella dal Sangue Marsicano. La famiglia è di Avezzano dopo l'esordio dall'inizio con la Roma. C'è l'Under 21. E poi infine il Volley. In basso l'Italia suona la sesta. Oggi la Thailandia. I mondiali in Giappone. Le donne del commissario tecnico Mazzanti. Sono a punteggio pieno. Vediamo anche, torniamo anzi a parlare di Pescara. In vetrina quest'oggi c'è l'autore del gol che ha regalato la vittoria ai Biancazzurri. Si tratta di José Macin. Mugugni è gol. Il riscatto di Macino non aveva digerito due panchine di fila. Pilon lo ha pungolato. E adesso può spiccare il volo. Intanto scontro sui bilanci in società. Sebastiani Iannascoli. Oggi nuovo round in tribunale. Vediamo le gare che si sono giocate ieri. Tre posticipi. Due nel pomeriggio. Un'altra partita in notturna. Con la vittoria dello Spezia all'Ardenza di Livorno per 3 a 1. Vittoria dei Liguri che mette in serio pericolo la panchina dell'allenatore dei Livornesi Lucarelli. Poi il netto successo del Brescia sul Padova per 4 a 1. E poi come vi dicevo il successo del Parermo sul Crotone per 1 a 0. Grazie ad una rete di Nestoroschi al 41esimo del secondo tempo. Intanto tornando al Pescara. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti. venerdì un amichevole con i nero stellati a Pratola Peligna. Proprio per preparare la gara del turno successivo dopo la sosta. Il Pescara, lo ricordiamo, giocherà di venerdì 19 ottobre alle 21. al picco di la Spezia. E noi siamo al campionato di Serie C. Teramo inguardabile, notte fonda a Salò. I biancorossi mai in partita vengono affondati dalla squadra lombarda che finora non aveva segnato neanche una rete. Ferralpi-Salò che batte il Teramo per 3 a 1. Vediamo però anche come il messaggero parla prima del Pescara e poi della sconfitta dei biancorossi a Salò. Pescara l'umiltà al comando. Primo posto solitario in classifica e nessuna sconfitta. Il capolavoro di Pilon che nessuno avrebbe immaginato. Il tecnico non si scompone, sono un uomo di calcio. Dobbiamo tenere i piedi per terra ragionando come se fossimo a metà classifica. E il punto del lunedì. E se questo delfino diventasse una cosa seria? Questa è la domanda in vista anche delle prossime gare. Intanto si avvicinano le elezioni in Federcalcio. Oggi potrebbe esserci l'incoronazione ufficiale di Gabriele Gravina come candidato unico per la Federazione Italiana Gioco Calcio. Per l'Abruzzo sarebbe davvero un appuntamento storico perché Gravina è abruzzese e mai nella storia del nostro calcio un abruzzese è arrivato così in alto ai vertici. Memushai, Castrati e Melegoni nelle nazionali. Torniamo a parlare del Pescara. Si guarda ai prossimi impegni ma ovviamente ci sarà la sosta e diversi giocatori biancazzurri dovranno rispondere alla chiamata delle rispettive nazionali. E siamo al Teramo come dicevamo anche prima ma in partita Biancorossi sconfitti per 3-1 a Salò. Piccioni sbaglia un gol e il Teramo va in barca. La Feralpi poi dilaga e vince per 3-1. Troppo netto il divario tra le due formazioni. Per il momento il tecnico Zichella non rischia almeno secondo le voci trapelate dalla società. e noi andiamo ad ascoltare proprio questa dichiarazione al 91esimo dell'allenatore Biancorosso. Qualcosa di più da vigilare anche se la squadra ha fatto un buon primo tempo. Giocavamo forse con una squadra singolarmente più completa. Una squadra veramente importante. A me oggi loro hanno fatto veramente una buona impressione. Primo tempo ci siamo anche difesi abbastanza bene. e poi secondo tempo forse abbiamo provato a uscire con la testa un po' fuori e provare a fare qualcosa e ci hanno beccato tutti. Lewandowski fa parte del Teramo e quindi come Calaccio ha fatto gol che fa parte del Salò e Lewandowski fa parte del Teramo quindi è allenato e preparato il nostro giocatore. Quindi se ci riesce, ci aiuta a non prendere gol è tanto di guadagnato. La squadra secondo me a me non è dispiaciuta. La squadra ha fatto quello che si era preparato. Abbiamo giocato con un 4-3-3 con i due attaccanti leggermente più dentro al campo secondo me non hanno fatto neanche malissimo. I ragazzi quello che avevano hanno dato. Si crede in discussione dal 6 giugno come al solito perché l'allenatore è sempre in discussione né più di ieri né più di oggi. Vediamo anche gli altri risultati del girone B di Serie C. Triestina, Virtus, Verona 2-0 Ternana, Renate 1-1 sorpresa liberati Giana Rimini 2-2 Rimini prossimo avversario del Teramo si giocherà sabato al Romeo Neri Vicenza, Vispesaro 2-1 Fermana, Ravenna 0-2 Imolese, Pordenone 1-1 e poi Gubbio, Fano 0-0 Sud Tirol, Albinoneff 0-0 Apriamo la pagina della Serie D lo facciamo grazie a questa pagina del centro il notaresco Schianta Lavezano la capolista Vola quinta vittoria consecutiva il presidente Paris Furibondo in bilico Giampaolo e tre calciatori attese novità nelle prossime ore per la formazione bianco-verde vedete anche il titolo del messaggero il notaresco non si ferma più Teramani con tre reti e spugnano il campo dell'Avezzano e ora guardano tutti dall'alto del primo posto in classifica il gol di Gian Felice illude i padroni di casa poi Moretti, Minella e Candellori lasciano i marsicani ultimi a 0 punti vedete poi in basso scusate Paris il patron marsicano faccia a faccia con la squadra sono attese novità nelle prossime ore potrebbe anche scattare l'esonero per il tecnico Giampaolo ma sono previsti soprattutto tagli in seno all'organico ma noi andiamo a vedere quello che è accaduto ieri allo stadio Dei Marsi nel servizio di Andrea Costantini il notaresco passa anche al Dei Marsi e si conferma regina a sorpresa del girone F e lo fa con una prestazione di assoluta qualità e autorevolezza l'1-3 del Dei Marsi fa sognare il rosso blu ma fa sprofondare i padroni di casa col presidente Paris che annuncia nel dopo partita che la squadra lotterà per la salvezza e non più per la vittoria rimandando a martedì provvedimenti drastici su tecnico e giocatori da mandare via la cronaca nella vezzano il tecnico Giampaolo conferma il 4-2-3-1 con Di Gianfelice che rileva l'infortunato Sbardella al centro della difesa mediana con l'ex Bisegne Bianciardi nel classico 4-3-3 del suo notaresco Cudini lascia in panchina Di Lollo inserisce Massetti Terzino e alza Candellorin mediana il notaresco fa sul serio e il primato non è occasionale lo capisce subito l'avezzano che al settimo rischia di andare sotto Moretti spizza per bontà il cui lob è neutralizzato da Fanti la risposta dei padroni di casa con Cerone il cui tiro è deviato sull'esterno da Massetti fatto curioso al dodicesimo Liguori simula platealmente in area di rigore e affinazione viene graziato dal direttore di gara che non lo ammonisce al diciassettesimo l'avezzano passa in vantaggio il tiro di Delamo è smorzato in corner da Massetti sugli sviluppi del tiro d'angolo di Pellecchia zampata dalla corta distanza del baby classe 2000 di Gian Felice che sblocca la situazione e si è regale il suo primo gol ma il notaresco è una vera prima della classe non solo non si abbatte ma sale di rivello al ventiduesimo doppia chance per la squadra del presidente Di Giovanni cross di La Barba e testa di Candellori Fanti si salva poi Liguori recupera e centra per lo stacco imperioso di Bontà che non inquadra lo specchio della porta pareggio rimandato a tre minuti dopo sventagliata di Blando che innesca Moretti il quale rientra supera Besana e calcia la deviazione di Menna spiazza Fanti ed è uno a uno gara in mano a Notaresco ventottesimo Minella sottoporta sfiora soltanto e manca il colpo dell'1-2 il centravanti Italo-Argentino però sette minuti dopo al trentacinquesimo ha un'altra opportunità e stavolta non perdona rilancio di Blando di Gian Felice manca il pallone Minella fila verso Fanti e lo batte facilmente facendo esplodere il settore ospiti per il meritato sorpasso Notareschino la furia rosso-blu si placa a questo punto e l'Avezzano a rifarsi vivo con Deramo al trentottesimo e soprattutto al quarantatresimo quando la punizione di Bisegna pizzica la parte alta della traversa sull'orlo del baratro Federico Giampaolo cambia due elementi dopo l'intervallo di Paolo e Alessandro per Bianciardi e Deramo ma ad eccezione dell'occasione del primo minuto quando Monti sbarra la strada a Menna trovato in area dal piazzato di Bisegna la storia non cambia anzi Notaresco sempre più padrone del campo e Biancoverdi in balia della capolista basti vedere come al quarto d'ora Candellori ruba palla a Bisegna l'ex samba avanza e di giustezza con un piattone superafanti 1-3 per una festa che è tutta della capolista la quale continua a controllare il gioco per un altro quarto d'ora la fase finale si fa poi più spezzettata l'Avezzano prova a ridestarsi dal torpore e recrimina per un doppio episodio l'offside fischiato ad Alessandro e una spinta Galeotta su Cerone in area di rigore ma grasso di Ariano Irpino fa giocare nel finale non accade più nulla e Notaresco allora può brindare al quinto successo consecutivo un avvio di stagione da sogno da incubo quello dell'Avezzano che vede andare in fumo i principali propositi stagionali e da un derby all'altro un gol e il Francaviglia spegne i sogni del Real mister Achini dà fiducia a Nazare al centro della difesa e il difensore annulla Tozzi Borsoe ed inizio di ripresa arriva la rete di Caffiero su angolo battuto da Banegas che gela il Giulianova dunque bravo il giocatore francavillese a segnare il gol di testa ma il Giulianova è uscito a testa alta dal Valle Anzuca vedete anche il titolo del centro e al Giulianova si ferma Francavilla un guizio di Caffiero cambia gli equilibri di Paolo l'occasione per pareggiare ma il pallone si stampa sul palo e poi le dichiarazioni del novantunesimo che tra l'altro vi avevamo proposto ieri sera in occasione del nostro appuntamento domenicale con l'Abruzzo del pallone con Jacopo Forcella stallone più giusto il pari il padrone presto altri soci mentre per quanto riguarda il Francavilla Rachini siamo stati intelligenti ad avere pazienza e noi vediamo le immagini il servizio dunque su questa vittoria del Francavilla per 1 a 0 nel derby tutto giallorosso giocato ieri al Valle Anzuca Valle Francavilla e derby tutto giallorosso del Valle Anzuca al termine di una sfida equilibrata e decisa dalla rete di testa di Caffiero al settimo della ripresa per il Giuliano arriva così la prima sconfitta della stagione in un match che ha visto le emozioni soprattutto nel secondo tempo quando le due squadre hanno avuto le occasioni più nitide per arrivare in rete con i legni delle due porte che hanno salvato Sciba e Spataro fra i locali Out Milizia Sanchez e Alessandro Di Renzo Rachini recupera però Bedin Cruz fra gli ospiti regolarmente in campo Tozzi Borsoi sole al Valle Anzuca dove dirige Arena di Torre del Greco di fronte a circa 500 spettatori con cospicua rappresentanza ospite partenza con il Francavilla in maglia bianca in pressing pur senza riuscire a creare veri e propri pericoli dalle parti di Sciba il primo tiro nello specchio della porta è di Antonelli che chiama ad una parata non difficile Spataro al venticinquesimo brivido in area francavillese con Ferrante che rimette di testa a centro area e dove dopo un batti ribatti è Tozzi Borsone di impegnare Spataro alla mezz'ora ottima giocata in area giuliese di Cosmo Palumbo che però poi calcia fuori al trentatresimo Banegas in area corregge il pallone in rete con la mano e viene giustamente ammonito con il gol annullato dal fischietto Campano la squadra ospite non si scopre e punge al quarantesimo con Di Paolo che se ne va sulla destra prima di concludere sopra la traversa al quarantaseiesimo l'occasione più biotta capita sulla testa ancora di Di Paolo che in area inzucca davvero di un nulla al lato nella ripresa si riparte senza cambi e con i padroni di casa pericolosi al terzo con un colpo di testa di Nazari che manca di poco il bersaglio grosso parte meglio il Villa che al settimo passa in vantaggio angolo telecomandato di Banegas e incornata vincente di Claudio Caffiero che supera Sciba per l'1-0 locale si sblocca così il derby con i ragazzi di Racchini che sembrano trarre vantaggio dalla rete al dodicesimo stallone cambia mandando in campo Palladini per Antonelli subito poi la risposta del tecnico di casa che getta nella mischia Mele per Maiolo al sedicesimo buona opportunità per Cosmo Palumbo che ci prova dalla distanza trovando però la risposta di Sciba al venticinquesimo secondo cambio per il Francavilla con Cicerello che entra al posto di De Costanzo poco dopo esce fra i locali anche Coulibaly infortunato per Bellanca in campo si vede soprattutto la squadra del presidente Candeloro con l'incrocio esterno colpito al trentunesimo da Banegas su calcio di punizione al trentatresimo il Giulianova arriva però ad un passo dal pareggio c'è infatti una prima conclusione di Del Grosso parata da Spataro prima del palo colpito da Di Paolo passano i minuti con altre sostituzioni che vedono in campo di Renzo per Sanseverino nel Francavilla mentre fra gli ospiti fuori Palladini e Ferrante per Francioni e Torelli cercano di accelerare i tempi gli ospiti che continuano a premere con una certa pericolosità come al quarantesimo con Tozzi Borsoi e soprattutto un minuto dopo con la conclusione da oltre 40 metri di Francioni e la parata di testa di Spataro che riesce a salvarsi in maniera davvero incredibile poi sei minuti di recupero con Mele che al quarantottesimo fallisce il gol del raddoppio prima del disperato e infruttuoso forcing finale degli ospiti che vanno a sbattere contro il muro del Francavilla che porta così a casa tre punti d'oro al cospetto di un Giulianova che esce però a testa alta e fra gli applausi del suo pubblico dal Valle Anzuca è andata male alla Vastese ancora una sconfitta per la squadra del presidente Bolami Vastese Sciupona segna e poi perde in bilico il tecnico Palladini con la Santa Arcangiolese il gol di Giampaolo non basta ultimatum della società domenica vittoria o sarà e sono il tecnico deluso al novantunesimo partiti bene abbiamo regalato troppo e allora vediamo il servizio sulla sconfitta in terra di Romagna degli Aragonesi la Vastese esce sconfitta dal Romeo Neri di Rimini in una gara quella con il Sant'Arcangelo che sarebbe servita per rilanciare le quotazioni di Ottavio Palladini ma che finisce per mettere ancora di più nei guai il tecnico sempre più a rischio ma confermato dalla dirigenza almeno fino a domenica prossima quando gli Aragonesi se la vedranno in casa col Forlì battuto dal Montegiorgio e direi che la partita era iniziata molto bene per i biancorossi abruzzesi che si ripresentavano con lo schieramento quasi identico a quello di domenica scorsa il 3-4-1-2 Napolano alle spalle di Leonetti e Giampaolo che al dodicesimo trova subito la rete servita in area proprio da Napolano e autore dell'incornata vincente che batte Battistini sembra una vastese sciolta anche per merito del vantaggio ma che ad un certo punto si perde la reazione del Sant'Arcangelo non è irresistibile ma tanto basta per ribaltare già nel primo tempo il punteggio alla mezz'ora infatti è un gioiello direttamente da calcio piazzato dell'ex pescarese Emanuele Cascione a beffare Morelli gol che regala il pari ai Romagnoli ma che soprattutto cambia l'inerzia di un match che la vastese continua a giocare con determinazione prima della dormita difensiva che 5 minuti dopo l'1-1 permette a Peroni di completare e perfezionare la rimonta gialloblu a questo punto con il risultato ribaltato il Sant'Arcangelo in chiusura di primo tempo sfiora anche il tris lo fa con la conclusione di Mattias Mancini che centra in pieno la traversa nel secondo tempo Palladini prova a giocarsi anche la carta di Capitanfiore al posto di Napolano tentando in tutti i modi la via per un pari che avrebbe dato un respiro soprattutto dal punto di vista psicologico ma al 66esimo Morelli è decisivo su un altro ne ho entrato 5 col portiere aragonese bravo a sventare il tris del Sant'Arcangelo la stessa è vicinissima al gol al minuto 70 incredibile la mischia che si crea in area di rigore Leonetti calamita il pallone calcio a botta sicura ma Battistini distinto si rifugia in corner la pressione degli ospiti non mette in particolare ambasce la squadra di Daniele Galloppa che in 4 giri di lancette dunque porta a casa in palio terza sconfitta in 5 gare per la vastese penultima nel gruppone con Agnonesi Campobasso e Castelfidardo una situazione di classifica assolutamente impronosticabile in avvia di stagione anche il cambio di modulo per ora non sta portando quei punti che servirebbero per una rincorsa a questo punto davvero molto difficile la vittoria manca ancora e domenica prossima all'Aragona tutti si aspettano i tre punti dovessero sfuggire nuovamente per Palladini sarebbe davvero il capolinea fiducia rinnovata per altri 7 giorni a tempo determinato dunque da adesso in poi non potrà sbagliare più noi parliamo ancora di calcio scendiamo in eccellenza Schieti sconfitta fatale al tecnico Marino che è stato esonerato Micicche illude i neroverdi che nel secondo tempo incassano tre gol dai nero stellati dunque esonerato il tecnico del Chieti Umberto Marino al suo posto oggi ci sarà l'ufficialità Lucarelli vediamo anche le altre partite Penne acciuffa il Paterno grazie al puntero Zamora 1 a 1 il finale Capistrello che batte il Ponte Romano per 3 a 1 Amiternina che supera il Nereto per 2 a 1 vediamo anche le altre partite la capolista San Buceto passa dal Badriatica e da Lunga 2 a 1 il successo dei Teatini in Terra Teramana poi Angolana vittoria facile con il Martinsicuro Angolana Martinsicuro 3 a 0 le altre gare vedete in basso Torrese Acqua e Sapona 2 a 1 Miglianico Spoltore 0 a 0 Cupello il Delfino Flacco Porto Pescara 1 a 1 siamo alla promozione il girone B le gare della sesta giornata di Gennaro Show il Lanciano continua a volare 4 a 1 dei Frentani sulla Casolana ma Del Grosso non è soddisfatto e boccia il secondo tempo dei suoi che comunque restano in testa alla classifica e poi le altre partite Casalbordino Ortona 3 a 2 San Salvo River 65 Chieti 2 a 1 Piazzano Bagigalupo Vasto 1 a 5 Scafa Bucchianico 1 a 2 Ovidiana Sulmona Sant'Anna 4 a 0 Passo Cordone Valdisangro 1 a 2 Fossa Cessia Raiano 2 a 2 Fater Angelini Villa 2015 2 a 1 Vediamo il Girone A Castelnuovo non molla Sesto Acuto in rimonta 2 a 1 con il Fontanelle Mosciano Nuova Sant'Egidiese 0 a 2 Montori 88 Pucetta 3 a 0 Torni in parte Piano della Lente 1 a 3 Real Atria Tossicia 1 a 0 Rosetana Morrodoro 2 a 4 Borgo Santa Maria Angizia Luco 0 a 2 San Gregorio Sportland Celano 3 a 1 Sant'Omero Palmenze Mutignano 2 a 0 Vediamo anche quello che è accaduto nei campionati di pallacanestro perché ieri c'è stato il via ufficiale alla stagione Roseto non bastano i 23 punti di Person a Mantua i Biancazzurri si mettono in luce nei primi due quarti poi si spengono nella seconda parte della gara Mantua che batte Roseto 85 a 78 coach d'Arcangeli le dichiarazioni del dopogara bene per 20 minuti poi la luce si è spenta per la formazione Bianco Celeste che domenica al Palamaggetti ospiterà il Cagliari Vediamo quello che è successo per le Abruzzesi nella prima giornata del campionato di Serie B in alto Civitanova che batte Campli 89 a 64 netta sconfitta della formazione Farnese partenza super dell'amatori Pescara non c'è scampo per il Nardò Pescara che batte i Pugliesi 96 a 77 il Teramo sfiora l'impresa sul parchè di Ancona marchigiani che si impongono di due punti 74 a 72 e poi la Teate Chieti comincia con un colpaccio sbancata a Corato per 61 a 59 Giulianova KO troppi errori invece al tiro Giulianova che esce sconfitta dal parchè del Fabriano per 62 a 58 vediamo anche la serie C Silver con questi risultati Porto San Giorgio Mociano 56 a 66 nuovo Pineto nuovo basket Aquilano 50 a 66 Chieti e Rino Termoli 67 a 72 Teramo Torre Spess 91 a 68 Nova Campli Vasto 69 a 85 tante vittorie esterne in questa giornata vediamo poi anche il basket C-Gold Magic Chieti Monte Granano 69 a 64 Lanciano Pisaurum 2084 a 76 queste le partite delle abruzzesi nella serie C-Gold di Pallacanestro il podismo la Stralanciano ha visto la vittoria del 33enne Giovannangelo per il secondo anno consecutivo e un farese a salire sul gradino più alto del podio a vivacizzare la manifestazione le gare per i ragazzi e gli ordini professionali le gare di ciclismo della domenica a Pietracamela e Annetti trionfa nella cronoscalata Prati di Tivo Fedele e Di Cintio vincono invece le gare di Pianella vediamo anche il rugby Unione e l'Aquila ultimi test prima del match d'esordio contro la neopromossa Amatori Catania i tecnici d'Antonio e Milani non potranno contare su Dutuà di Cesare e Ciofani ancora infortunati vediamo anche la notizia che riguarda l'Atletica Under 16 con l'Abruzzo al tredicesimo posto nella manifestazione del fine settimana per il calcio a 5 Acqua e Sapone grande protagonista nel primo turno della Coppa Campioni domenica ci sarà il sorteggio per conoscere le prossime avversarie in campo femminile parte bene il Montesilvano andiamo a vedere un'altra pagina del anzi no siamo arrivati al termine questa era l'ultima pagina dello sport del centro siamo giunti al termine dunque dell'appuntamento di oggi primo della settimana con Mattino 6 Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 per un nuovo numero della nostra rassegna stampa per quanto riguarda invece l'informazione della nostra tv vi ricordo alle 14 la prima edizione del TG6 ma vi ricordo a proposito di sport come ogni lunedì questa sera in diretta dai nostri studi alle 21 ci sarà replay la trasmissione condotta da Enrico Rocchi per parlare del pescare dello splendido momento dei biancazzurri in testa alla classifica del campionato di serie B davvero tutto grazie a voi per averci seguito grazie a Claudio Di Giacomo in regia e un buon proseguimento di giornale di tosse